Dopo lo stop forzato dalla pandemia riparte per la seconda edizione Vallefoglia d'autunno, sabato 4 e domenica 5 di dicembre, un modo per esporre i prodotti del territorio. Sì, è un'inistitiva quest'anno più limitata ovviamente nella piazza Repubblica Montecchio. L'obiettivo è quello di valorizzare tutti i prodotti tipici della vallata, dal tartufo al miele all'olio extravergine d'oliva al melograno, tutto quello che producono queste terre e dare una mano alla economia, alle attività commerciali. Anche l'obiettivo è quello di far diventare l'agricoltura, il turismo, l'ambiente, il paesaggio, la storia, un pezzo del sistema economico e produttivo della città di Vallefoglia e di questa vallata. Noi puntiamo molto sull'agroalimentare, stiamo costruendo un progetto insieme alla regione, alla provincia, all'Università di Urbino, quindi pensiamo che seppur con la mascherina, seppur con la misurazione della febbre, seppur con il green pass, seppur con l'igienizzazione e il rispetto delle regole per evitare l'aumento dei contagi, la gente deve pur anche vivere dopo due anni. Quindi, diciamo, delle forme di coinvolgimento dei cittadini, anche dei bambini, delle famiglie, pur con, diciamo, queste regole che ci devono aiutare a superare questa fase e uscire in avanti anche dal punto di vista dell'economia. Noi come Proloco portiamo come cose da far degustare alla gente la piadina, la piadina che facciamo sempre, con diversi salumi tipo prosciutto, salame, lonza, poi anche formaggio. In più, quest'anno ci facciamo anche le calde arroste, le castagne arrosto e il vin brulee, che abbiamo visto che, sì, la piadina sempre, ma specialmente quando comincia a far freddo, questo vin brulee comincia a essere proprio richiesto, sia le castagne che il vin brulee, quindi lo faremo e siamo convinti che la gente verrà. Quali prodotti tipici si potranno degustare? Panettoni artigianali, nonché i pani che sono soliti essere venduti in autunno, quindi il pan nociato, il pan col mosto, eccetera. Il bagel, che è un panino polacco nato nel XVII secolo, però al tartufo. E poi, vera e propria chicca, un brulee al negroni, quindi una vera e propria novità. Oltre a questo, cioccolato artigianale e della ceramica da indossare e da abbellire la casa.